Tutto con l'acqua? Tutto con l'acqua? Tutto con l'acqua? Tutto con l'acqua? Una mia è una partita della Rotaris Che? Lui ha un vaso E' solo una mano? Se è uno che devi dire il piano Ma ti provo Sono la mia? Si E' una murrocchita mia tuya? Si Le falla? Si C'è? Y a vos te gustaría quedarte aca? Tu idea es una etapa de Te gustaría elaborar aca? Si Si Viste que yo te conté que estaba haciendo un postgrado? Un curso de postgrado Ese que te ha ido a robar Ese 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 Grazie. Grazie.